ok ok come dico sempre io e siamo di nuovo qui siamo di nuovo qui alla fine di una settimana come sempre e se scusate non ho un gran bel aspetto lo so al di là del barba purtroppo qui sembra che siamo arrivati da un giorno all'altro senza passare per l'autunno direttamente all'inverno e quindi devo aver preso una botta di freddo questa notte esagerata e avendo ancora diciamo così la versione estiva del letto e quindi come vedete occhi rossi non riposato la barba volevo farla ieri ma non ci sono riuscito e quindi non parliamo dei capelli che avevo un appuntamento ma mi è saltato e insomma è stata una settimana particolare dai diciamo che è stata un'altra settimana un po particolare ma più che altro questo cambiamento improvviso di tempo ma non siamo qui per parlare del tempo intanto sono qui per salutare ringraziare tutti coloro che continuano lasciare commenti a seguire i miei video e ragazzi cerchiamo di salire un pochettino di più siamo siamo ancora di fermi però vabbè ok io non sono qui per fare numeri li do qualche volta ma non sono qui per fare numeri sono qui invece però se volete cioè iscrivetevi non ho niente in contrario assolutamente lungi da me che non si dica mai no lui ha detto che no ma dicevo siamo qui come sempre per vedere cosa sarà mai successo secondo le mie informazioni di interessante nel nostro mondo nerd e ragazzi sarà perché questo come avevo già detto e l'ultimo video prima delle mie vacanze meritate o meno non sono mai intanto nel dubbio me le faccio e quindi per due settimane poi a livello di video continuerà a uscire qualcosa ma questo format molto probabilmente no forse se riesco faccio uscire qualcosa però per un po per due settimane facciamo una specie di mini pausa comunque sapete che c'è mandiamo la sigla e poi vediamo se ho trovato qualche cosa allora sigla ottimo 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 eccoci qua allora sì non è veramente molto quello che ho trovato e potrebbe essere la volta buona che questo video diventa il più corto in assoluto ma partiamo con il primo argomento che forse con un po più succoso ovvero parliamo di eh sì una delle mie grandi passione il cinema e sul cinema beh un po di cosette da dire ci sono allora intanto non so se avete avuto la possibilità ma sicuramente sì se non l'avete fatto andate a recuperare di guardare il primo trailer che è uscito ufficiale sul film su enzo ferrari beh ragazzi se non fosse altro se per le macchine e che sono c'è ferrari se non fosse altro per il fatto che è orgoglio italiano perché insomma è orgoglio italiano al di là di tutto parliamo di una di un marchio che ha reso storica l'italia no voglio dire loro e la lamborghini no non è letta anche se lei potrebbe rendere anche l'italia storica per altri motivi ok non ho detto niente no ma la ferrari sappiamo che insomma dai e niente qui appunto andate a vedere il trailer se non siete andati a vederlo molto interessante curioso è il fatto che adam driver ha detto che in tutto il film non ha mai riuscito non è mai riuscito a guidare una ferrari un po una cosa è come se vin diesel domani ci dicesse che non ha mai guidato lui personalmente un'automobile non succede perché vin diesel va bene e questa era la prima notizia lampo un'altra seconda notizia lampo che secondo me seconda secondo che devo stare attento a questi giochi e e spero che tra l'altro non sia vera cioè se non roviniamo due finché separatamente sono stati molto belli uno l'ho visto l'altro ancora no e stiamo parlando di barbie e openheim ma naturalmente barbie l'ho visto io l'ho trovato molto originale e che si merita tutto quello che si è portato a casa e poi ragazzi ditemi quello che volete ma io adoro c'è io ad un matto per margot robbie e di una al di là della bellezza e di una bravura non indifferente tra l'altro ieri ho recuperato babylon che adesso su amazon prime se non lo conoscete andate a vederlo perché a modo suo è anche un gioiellino secondo me e poi vabbè un cast e pitt e altri ma veramente un film che è un po difficile da capire ma merita ma comunque non sono qui per parlare di babylon o di margot robbie openheim invece dicevo dall'altra parte non ho avuto ancora la possibilità di vederlo ma sicuramente lo guarderò lo recupererò e comunque mi interessa molto perché nolan l'ho sempre seguito giustamente ha cominciato a guadagnare anche lui il giusto alle alle casse dei cinema silvia murphy lo adoro da sempre da quando appunto su batman faceva scarecrow lo spaventa passere e anche poi dopo in red eye e altri film ma vabbè comunque questi due film che presi separatamente sono un capolavoro secondo me rischiano di essere minimizzati da che cosa da una notizia che sembrerebbe essere abbastanza vera secondo la quale vuole che qualche mente malata dietro questi film stia seriamente pensando di sviluppare un progetto di film basato su cosa sul barbenheimer barbenheimer avevamo già citato era quel fenomeno diciamo così che andato creandosi in america e poi non solo in america dove si ci si testava spingendosi a vedere i due film nella stessa giornata uno dopo l'altro no per avere un contrasto enorme ebbene parrebbe che qualche mente malata voglia sfruttare questo fenomeno che andato formandosi e fare un film dove le bambole creano la bomba atomica ma ragazzi ma che senso ha ma io spero che siano solo voci di corridore senza senso battute buttate in pasto ai creditori ma vabbè continuiamo andiamo oltre andiamo oltre per parlare di altre cose giustamente ovvero avete visto parlando di trailer l'ultimo trailer ufficiale di the marvels l'ultimo film di quest'anno dei marvel studio cinematic universe del marvel studio cinematic universe dove ci sono praticamente le tre ragazze che hanno più o meno gli stessi poteri ovvero cat marvel foton anche se ufficialmente non si chiama ancora foton e mrs marvel la ragazzina pakistana beh sembra meno peggio di quello che all'inizio mi sembrava ditemi voi cosa ne pensate altra notizia sempre all'interno del mondo dei fumetti ma del cinema sembrerebbe che giancarlo esposito sì proprio lui stia pensando di unirsi al nuovo dc universe informazione sotto le dita di james gunn in quale progetto in quale film io ancora l'articolo non l'ho letto se volete ovviamente il link sta qua sotto e andate a curiosare anche voi un po non mi credo fa tutto io è che caspita no scherzo e che comunque mi sembrava abbastanza curiosa la cosa non so se è una cosa che voglio effettivamente vedere va e vabbè e queste erano le cose più succose del mondo del cinema ce ne sarebbero tante altre molto probabilmente ma era quello che aveva colpito un po e quindi prossimo argomento andiamo a parlare di ebbene sì l'altra mia passione ovvero il fumetto e di cosa parliamo del fumetto beh allora intanto non si può non parlare dell'arrivo da giovedì della serie one piece la live action su netflix io ho iniziato a vedere il primo episodio e ancora non l'ho finito perché vi dico la verità faccio un po fatica non conoscendo nel manga nei cartoni animato quindi preso così da zero non mi ha proprio proprio accattivato per certi aspetti mi sembra fatto bene per altri non ne sono propriamente convinto no proprio ancora no però insomma dai vediamo ditemi voi cosa ne pensate se avete visto comunque non potevo non farvene non farvene notizia perché insomma è notizia attuale quindi ci stava tutto poi sempre parlando di fumetto e anche qui ecco sono a metà strada per quello l'ho messo queste notizie subito dopo il cinema perché hanno anche questa valenza col cinema sono sempre su netflix oggi netflix quale la fa da padrone e non mi sta pagando neanche un cento di su però netflix se ti va qua sono almeno regalami non so l'abbonamento non è che voglio tanto ma vabbè non mi ascolteranno mai dicevo sempre su netflix arriverà o forse è già arrivato aspettate non l'ho guardato bene comunque su netflix ci sarà un nuovo film di david fincher intitolato the killer e questo film è basato da un fumetto francese scritto da matt e disegnato da luke 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 come si chiama luke luke jacquamon giacquamon ecco arriverà il 3 settembre 2023 perché me lo nomino perché il cast non è da sottovalutare abbiamo michael fassbender tilda swinton insomma poi fincher non è che faccia proprio schifo come regista anche se non è un grandissimo regista però non è che faccia proprio schifo quindi vediamo per chi vuole sapere di più vi dico che il fumetto venne pubblicato sul lancio story nel 2002 in una quindicina di numeri poi andate a leggere l'articolo così anche voi fate qualche cosa ok ma avevo qualcos'altro da dirvi sul mondo del dei fumetti no sul mondo del fumetto avevo trovato solo queste informazioni che erano legate un po il fumetto anche perché non lo so tutto il resto già se ne parlato abbastanza cosa vi devo dire che il nostro dico nostro ormai sapete perché in quanto associazione salotto di sceldo un socio mano e lotto bit la 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 che cristiano cucina è ospite al fumetto di terni qualcosa di simile sì ma tra non molto viene da noi al salotto di shannon live live and talks a roma e quindi però vabbè se vogliamo restare nel fumetto dire qualche cosina in più diciamo questa ora veloci veloci andiamo sì purtroppo all'ultimo argomento ed è ebbè giustamente non poteva non essere la mia altra grande passione e non poteva non essere purtroppo ancora games workshop non posso non parlarvene normalmente volevo terminare già dopo il cinema e dopo il fume scusate dopo il fumetto dopo cinema e fumetto volevo chiuderla lì e non volevo parlarvi un'altra volta di games workshop ma purtroppo non possono farlo perché perché finalmente dopo che ce l'avevano mostrato velocemente in uno degli ultimi eventi non mi ricordo come si chiama la aspetta è prima della nova open c'era un altro grande evento che non mi viene in mente in un piccolo è una piccola immagine adesso hanno confermato che non solo lui che non ce l'hanno fatto rivedere perché si vede che ormai lo considerano già dato per scontato ma nel gioco di age of sigma il vecchio fantasy riceveranno un piccolo refresh con l'aggiunta di personaggi nuovi niente poco di meno che gli orchi chiamati attualmente iron joves in particolare riceveranno due nuove unità che si vanno ad aggiungere a le brutes chiamate già esistenti che si chiamano savage brutes quindi dei combattenti corpo a corpo in versione normale e in versione esaltata con le maschere che trovo molto belli poi ci sarà il refresh di quelli che sono gli eredi degli orchi neri del fantasy i black orcs che si chiamano attualmente hard boys con modelli anche molto interessanti con l'aggiunta degli scudi e delle maschere che ci sta perché no e soprattutto un nuovo roe con un nuovo animale da compagnia uno squig con una pietra in testa non si sa perché camminata pietra in testa però vabbè e ha probabilmente essendo gli squigs delle specie di funghi viventi magari era un fungo che è cresciuto sotto la pietra poi diventando squig si è portato la pietra è attaccato alla pietra un po come la cozza con lo scoglio vabbè e e poi un nuovo eroe dicevo con il con questo anima detto e soprattutto il nuovo grande eroe che avevamo già visto una volta a cavallo di un gigantesco veramente gigantesco cinghiale super corazzato con l'armatura quello non vedo l'ora che arriva quello è mio gli altri non lo so ma quello è mio bene ragazzi come vi dicevo uno dei più corti video di un minuto o due forse vabbè alla fine si parla sempre tanto quindi questo era quanto voi non so cosa farete vi auguro una buona domenica un buon fine settimana un buon inizio della nuova settimana il mio sarà perfettamente in vacanza ovvero per essere esatti lunedì martedì c'è un po di commissioni da fare di preparativi la pulizia generale prima di lasciare la casa e poi si va bene io vi ringrazio e come dico sempre restate in campana perché magari se riesco a fare qualcosina da roma da quelle parti non lo so non voglio niente ok ragazzi commenti iscrizioni tutto quello che volete alla prossima